la 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 basta 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 allora ragazzi due ore due ore mancano due ore mi raccomando siete concentrati siete carichi vi giocate tutto il vostro futuro e soprattutto io mi gioco tutto il mio futuro vuoi vederli hm? pesante? fate un urlo dai 1 2 3 ah di più 1, 2, 3 ah Direi che è... Magnifico discorso, Presti. No, bravo. Magnifico. Ok, bene, dai, diamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A me che cazzo me ne frega, scusate, sono un preside, scusate. Lei sarebbe la solista, Presti. A me che cazzo me ne frega, scusate, scusate, scusate. A me che cazzo me ne frega, scusate, scusate. A me che cazzo me ne frega. A me che cazzo me ne frega, scusate. A me che cazzo me ne frega, scusate. Ok, va bene la musica, dare spazio ai giovani, però adesso basta, si è fatto una certa crozzatina e buttato la pasta, ok? Perciò sapete cosa significa? Via, 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 dai, veloci, veloci, dai, su, ce l'avete una famiglia, dai, che con queste gonne lì non ti vergogli, vai, vai, via, vai, vai, veloci, 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 vai!